Sarebbe vedere cosa? Magari sui 150 gradi? 160, sarei già felice. Avere un po' di margine. Prova a vedere se viene. Prova a vedere se viene. Prova a vedere. Si muove un pochino, magari con gli attrezzi giusti. Eh si, con un estrattore. Quanto è già? 143, però adesso inizia a scaldarsi. Ora ti siedi presto. Poi anche inizia a scaldarsi il nucleo, probabilmente da un po'. Adesso portalo su a 200. Ok, grazie. 107. Perfetto. 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 Perfetto.